Allora arrivano tanti messaggi e allora dice certo siete contro i politici di protezione e vi siete alleati col PD, vogliamo rispondere a questa? Allora dobbiamo decidere se il movimento nasce soltanto per fare rappresentanza, allora potevamo anche stare soli all'opposizione e continuare a divertirci, all'opposizione o stare in piazza, perché no? Abbiamo deciso di prenderci le responsabilità e fare il bene del paese, quello che per noi è il bene del paese e per chi ci ha votato il 4 marzo 2018. Qual è stato il momento più critico vissuto da lei di questa fase agostana calda? Insomma la più critica è dire a mia moglie che devo risalire a Roma dalla Sicilia, quella è la cosa più critica in assoluto perché non è stato facile, dopo un anno da capogruppo non è facile gestire la parte privata, però immagino ci stessimo riferendo alla parte politica. Mi fa piacere quando poi i politici ogni tanto raccontano così stessi. No, perché uno pensa chissà cosa, in realtà c'è tutta una parte, dal punto di vista privato, quando uno è così impegnato ovviamente è molto difficile, però al di là di questo la parte più difficile è stata quando ovviamente lì abbiamo scoperto che c'era un'interruzione del governo, di tutto, senza un motivo reale, senza un valido motivo, perché eravamo stati molto bravi, nel senso avevamo approvato il sicurezza bis, se ci pensate, cioè abbiamo fatto tutto quanto, puntualmente, d'improvviso. L'avete subito il sicurezza bis? No, vabbè alla fine niente dell'altro ma no, l'ho citato pure io perché non ci sono problemi a riguardo, c'erano soltanto due cose che alla fine ha fatto, lo stesso Mattarella ha detto che vanno riviste, verranno riviste le cose di Mattarella, ma il concetto non è tanto quello, il concetto è che mentre noi eravamo lì ad approvare le leggi in Parlamento, c'era Salvini che era il papete, prendiamoci chiaro, era proprio quello il momento, noi eravamo in Parlamento, lui era il papete e lì ha maturato. Vuoi rifare la battuta che l'ha reso? No, no, basta, non mi interessa la battuta perché... Beh, però è stata una genialata la sua. Sì, grazie, non l'ho inventato io il finto lapsus, però devo dire che funziona sempre perché effettivamente meritano questo in questo momento, di essere un po', anche un po' di sberleffo ci vuole secondo me, dopo la stupitazione che hanno fatto. Lo sberleffo, perché poi qui ne discutiamo spessissimo come la comunicazione è l'abbrivo che ha preso la politica attraverso la sua comunicazione, toni che si alzano sempre di più e che probabilmente però arrivano più alla pancia dei contenuti delle persone. Come si fa a smontare, dal vostro punto di vista, indipendentemente da quello che ne pensino in questo momento i conduttori o gli ascoltatori, il consenso virtuale, fino a quando non si torna alle urne, virtuale, che la Lega ha messo su? In realtà cambiano i mezzi, una volta che tu impari ad impadronirtene riesci a fare tante cose, perché insomma, leggevo qualche mese fa un libro di Aldo Saxli che è Il mondo nuovo, cioè ci sono i saggi Ritorno al mondo nuovo, in cui spiega molto bene come alla fine se tu conosci bene i mezzi riesci anche a far capire cose, anche a mistificare la realtà, che secondo me è un po' quello che sta accadendo, perché oggi c'è qualcuno che prende notizie false pensando siano vere. Questa è una cosa che non va bene, qualcuno ci ha detto pure, ma vuoi 5 stelle? Non è vero, noi siamo sempre stati attentissimi a fare controinformazione, ma una cosa è controinformazione e una cosa è fare fake news. Le fake news sono terribili e purtroppo c'è chi... Voi avete utilizzato la rete per fare controinformazione. Controinformazione con la rete, però la rete era libera, è sempre stata libera, però nel frattempo c'è chi ha capito i meccanismi per, in un certo senso, andare in determinate direzioni. Questa è una cosa che a me non piace, perché quando è nato il blog di Grillo nel 2005, io iniziato a frequentarlo dal 2007, era un unicum. Oggi invece c'è, oggi invece se tu sei bravo a muoverti sui social, con i bravi social media manager, riesci veramente a far credere cose che in realtà sono false come vere. Allora, ci sono un sacco di whatsapp vocali, io vorrei quello là che riguarda anche la fedeltà, diciamo così, la fedeltà al gruppo, Davide mi senti? Quello là che chiedeva le conseguenze per chi ha lasciato il gruppo di 5 Stelle, quindi è un'osservazione che era interessante, anche perché avevamo finito proprio il primo blocco con la domanda sulla legge riguardante il vincolo di mandato. Roberto da Roma, ma quelle due persone che sono uscite dai 5 Stelle, una è andata da Lameloni, hanno pagato i 100.000 euro di multa? Non li hanno ancora pagati, ma se non sbaglio il Movimento 5 Stelle si sta attivando per farglieli pagare, ecco questo è, perché obiettivamente, poco fa si parla di legge il vincolo di mandato. Parliamoci chiaro, noi veniamo eletti con un simbolo, tra l'altro non c'è nemmeno la preferenza purtroppo, vorrei dire non esiste la preferenza, quindi oggi tutte le persone che vengono elette vengono elette anche con un simbolo. È vero che ci sono un'innominale, io sono un'innominale, ma resta il fatto che noi veniamo eletti perché apparteniamo a quella forza politica. Nel momento in cui tu cambi forza politica per me, tanto ti dovresti vergognare di camminare per strada, però mi vergognerei all'idea che domani torno nella mia città, torno a Messina e dico sì, sai che sono tornato in un'altra forza politica rispetto a quella che voi avete votato. Se mai, lei sostiene, si lascia il movimento e si lascia la politica, perché poi comunque è inutile negarselo, no? Il momento in cui avete fatto prima questo accordo di governo con la Lega e poi con il Partito Democratico la cosa è rimasta sullo stomaco a tanti che sono ancora in seno al Movimento 5 Stelle. Poi c'è stato un momento in cui, ma venendo anche ospiti da noi e non solo, Matteo Renzi fonda il suo partito e diceva aspettiamo è porta aperta la Renault, dicevamo anche noi e nel senso gliel'abbiamo fatto dire a qualche esponente importante di Italia Viva. La Lega è lì che dice no, non facciamo telefonate, però benvengano anche quelle del Movimento 5 Stelle. Cioè questo rischio c'è ancora? Ma io dico questo, il Movimento 5 Stelle, cioè noi in questo momento andiamo avanti, siamo convintissimi di quello che stiamo facendo, quindi questo rischio io al momento non lo vedo. Quanto vi fidate di Matteo Renzi? Però questa cosa gliela volevo chiedere. Ma di Matteo Renzi non ci fidiamo per niente, io faccio presente tra l'altro il Movimento 5 Stelle, cioè noi andiamo avanti. Per quale è mojito non vi... Cioè diciamo che noi... carino. No, no, vabbè, però a parte tutto la politica è la stessa. Io voglio dire questo, prima eravamo con la Lega, oggi siamo un partito democratico, cambia poco dal punto di vista dei punti che stiamo portando avanti. Non è che la politica è cambiata, non è che noi eravamo per il Cittadinanza per quota 100 e oggi non lo siamo più. Lo siamo ancora, eravamo per i tagli dei vitalizi, i tagli parlamentari prima, lo siamo ancora. Il Movimento 5 Stelle è sempre lo stesso, chiaramente. Salvini non ci fidiamo minimamente, perché non c'era alcun motivo per staccare il governo, l'ha voluto staccare. Per quale è mojito ci scherziamo, però è vero. Effettivamente non si capisce per quale motivo abbia fatto una cosa del genere. Se non che voleva più poltrone, perché ci accusa che noi siamo chiedendo le poltrone, ma effettivamente se lui vuole andare al voto è perché effettivamente i 122 deputati che hanno gli bastano, ne vuole molti di più, convinto che i sondaggi sono quelli che sono e quindi ne potrà avere di più. Questa avidità di poltrone noi la rigettiamo al mittente. Lei ha detto che il Movimento 5 Stelle è un corpo unico, granitico, eccetera, eccetera. Allora, come viene etichettato? Su granitico non hai visto la faccia, Stefano? Attenzione, nel senso che l'abbiamo ora. A me mi dico che le domande le devo fare guardando la telecamera, quindi io guardo la telecamera, ma ho la visione laterale. Vabbè, siete un corpo unico, magari non granitico, ma siete un corpo unico. Allora, come etichettate, come catalogate le critiche fatte? E c'erano le critiche, perché non si trattava di parlare ad un giornalista che riportava, ma erano in televisione, del ministro Spadafora nei confronti dell'amministrazione Raggi. Come le catalogate quelle critiche? Sono state poi, voglio dire, respinte al mittente da Di Maio in giù, insomma. Ma secondo me non si è espresso bene, Vincenzo, perché lo conosco bene e so bene quanto sia vicino anche all'amministrazione di Roma, quindi secondo me non si è espresso molto bene. Lo dico perché può capitare a chiunque da bere esprimersi male in televisione. Io posso dire che noi crediamo fortemente nell'operato di Virginia Raggi. Sappiamo bene la situazione che ha trovato, ma le cose le sta facendo. Se penso che andiamo molto meglio con i bilanci, se penso che molto ancora va fatto, ma sicuramente le strade, ci sono molto meno buche rispetto a prima, anche se si gioca molto su questo, vi inviterei a farvi un giretto dalle mie parti. Noi abbiamo ospitato ieri l'assessore De Santi su un'ora e siamo partiti da questo risultato ottenuto dall'Aggiunta. Poi su altre cose magari si poteva lavorare di più, però sulle strade rifatte, le piste ciclabili, sì. Sì, infatti questi ci sono. Anche dei piccoli gesti, a volte che sono più che simbolici. Penso al fatto che tu puoi andare a lasciare le bottiglie di plastica per avere crediti per viaggiare in metro. Queste cose sono anche simboliche, ma io le gradisco parecchio perché fanno capire pure in che direzione si vuole andare. Poi è chiaro che... Ecco, la direzione. Quello che spesso è stato detto è che manca una visione politica del Movimento 5 Stelle a livello nazionale e poi questa critica è stata mossa anche su Roma. Allora, possiamo chierirla? Si va su punti, però manca una visione di insieme. Allora, no, possiamo chierirla tranquillamente. La visione di insieme è quella di evitare gli sprechi. Iniziamo da questo. Evitare il malaffare, cercare di stare il più lontano possibile da queste cose, e possibilmente fare pulizia, anche se, devo dire, un sindaco non ha questa possibilità perché non esiste lo spoil system, quindi esiste il diritto al lavoro e quindi, insomma, da questo punto di vista tante cose non si possono fare. Poi, ovviamente, c'è la parte della mobilità dolce, perché penso appunto ai bus elettrici che vedo in centro, chiaramente la mobilità in generale, quindi la direzione c'è, esiste ed è chiara. Mi spiace se eventualmente il nostro essere post-ideologici possa un attimo confondere chi per anni è stato attaccato a delle ideologie novecentesche. Allora, io vorrei chiudere con delle osservazioni da parte dei nostri ascoltatori. A parte che ne arrivano altre di osservazioni scritte, insomma, secondo lei c'è stato un... Ecco, perché questa è un'osservazione che viene fatta dalla Lega soprattutto, ma c'è stato un cambio di passo per quanto riguarda la gestione dei flussi migratori? Cioè, si sono riaperte le porte oppure no? No, non si sono riaperti i porti, perché il concetto è questo. Prima ci dicevano, intanto facciamo sbarcare e poi vediamo se c'è la ridistribuzione in Europa. Quello che invece succede adesso è che per sbarcare serve già la ridistribuzione. Quello che accade è che prima chi aveva il pallino in mano, il ministro all'interno di prima, preferiva andare sui social e dire guardate, stanno arrivando e stai lì per 3-4 giorni. Quello che si fa adesso è che si alza il telefono, si parla con le altre segreterie degli altri paesi europei, si dice vedi che qui stanno andando i migranti, dammi una mano e prenditi una quota. Quindi c'è un dialogo a livello europeo e si riesce a fare qualcosa, mentre prima non si voleva risolvere il problema. Perché il patto di Malta non mi sembra che sia andato proprio benissimo. Beh, sicuramente si può fare meglio, non c'è alcun dubbio a riguardo, però attenzione, già le quote vengono prese. Poi ci sono i microsbarchi, i microsbarchi quelli dipendono dalla stagione dell'anno e non è che se c'era qualcun altro al governo i microsbarchi non ci sarebbero stati. Ci sono comunque quelli, perché una cosa sono le ONG... Ma qua la distinzione tra ONG... Ci sono le ONG... Cioè la vede un po' come il sindaco di Lampedusa, lei? No, attenzione, intanto non ho sentito cosa ha detto il sindaco di Lampedusa. No, negli anni, dice questo, cioè non guardiamo soltanto ai grandi sbarchi, quelli delle ONG, ma anche quello che arriva in questo modo. Sì, chiaramente quelli lì sono importantissimi i microsbarchi. I microsbarchi non c'è lì, arrivano da nulla, non arrivano nei porti, quindi anche se tu chiudi i porti quelli arrivano sulla spiaggia, che ovviamente è libera, e lì non puoi fare nulla. Quindi bisogna fare un controllo a monte, e con a monte intendo direttamente con la cooperazione con i paesi africani. Questa cosa non c'è stata voglia di farla finora, perché faceva troppo comodo che arrivassero questi migranti e che si chiudesse i porti. Perché qualcuno poi dice, ah che bello, hanno chiuso i porti, e viva. In realtà se tu risolvi il problema a monte, quindi non fai più arrivare i migranti, ecco che qui si rompe il giochino anche di chi vuole continuare a giocare sulla questione dei flussi migratori. Quindi, attraverso il Ministro degli Esteri, oggi c'è Luigi Di Maio, si sta lavorando molto sul tema della cooperazione. La cooperazione ci permette a noi, Italia, di avere intanto una diplomazia migliore con questi paesi africani, da un lato, e dall'altro ovviamente di chiedere e di cercare di lavorare meglio su quelle frontiere che oggi sono troppo aperte. Oh va bene, arrivano ancora tantissimi messaggi, siamo un po' in chiusura, perché poi insomma oggi, come si sa, ci sono anche le partite di Europa League. Chiudiamo con un messaggio dei nostri ascoltatori al quale risponderà l'Onorevole Dupa. Ciao, sono Marco da Roma, vorrei capire, una volta risolte le prime questioni su cui sono d'accordo, quando si inizierà a parlare di temi seri dove le posizioni sono competenti all'opposto, tipo infrastrutture, sicurezza e altro, vorrei capire come faranno a trovare un punto d'intesa. Grazie. Ce la fa rispondere brevemente? Sì, infrastrutture, già la Lega ha provato, ha fatto una mozione sulla gronda di Genova, cercando di rompere questa maggioranza, quindi possono stare tranquille le persone da casa, che le opposizioni fanno il loro lavoro di opposizione e cercano di mettere in difficoltà la maggioranza, cosa più che lecide, e hanno già iniziato e la maggioranza ha retto. Pensa appunto alla gronda, si è cercato di trovare un modo di fare una gronda più sostenibile possibile. Questa è una cosa importante, quindi si fa, ma con sostenibilità, e quindi da questo punto di vista una quadra si è trovata... La gronda, sprechiamolo, perché non è che tutti lo sanno, è una specie di raccordo... Un raccordo a Genova, sì, quindi chiaramente lì c'erano delle posizioni di inizialmente diverse in cui si è trovata una quadra. Sulla sicurezza, e sulla sicurezza tutti siamo per la sicurezza, quindi non capisco quale possa essere il problema al riguardo. Tutti vogliamo delle città sicure, tutti vogliamo stare tranquilli, quindi su questo non riesco a vedere... Il problema è sempre lì, cioè quanto si lavori sull'integrazione, perché ovviamente con il Partito Democratico si potrebbe lavorare di più sull'integrazione, ovviamente rendendo le città sicure, mentre sicuramente la Lega non parte dal fatto che per essere una città sicura si debba partire dall'integrazione. Cioè su questo Lega e Partito Democratico, adesso voi potete avere una posizione intermedia sicuramente, però Lega e Partito Democratico la guardano in maniera diametralmente opposta a questa cosa. Sì, diciamo che sulla sicurezza appunto io penso sempre che non dipende... Integrazione è fondamentale, iniziamo da questo, però purtroppo non è che la sicurezza è automaticamente legata all'integrazione, quindi a chi italiano non è. Purtroppo abbiamo un problema, appunto io penso... Per me sicurezza è la cosa principale, scusate, ovviamente è appunto la criminalità organizzata, ci abbiamo parlato all'inizio quindi non ricominciamo, per me quella è la cosa principale. Poi penso agli attacchi terroristici, poi sì se dobbiamo pensare che dipendono, possono fare anche gli italiani gli attacchi terroristici, anzi noi siamo molto più bravi di altri paesi perché l'abbiamo già sconfitto il terrorismo negli anni passati, cosa che invece purtroppo ancora non è avvenuta con la mafia, ma sicuramente siamo molto più bravi di altri. Oh, allora, nello scorso governo il vostro provvedimento bandiera era quello sul reddito di cittadinanza, mentre quota 100 era bandiera della Lega. No, 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 scusate, scusate, perché quota 100, questa dicitura, era uno dei nostri 20 punti. Loro parlavano di supermentare la legge Fornero, ma quota 100 era del Movimento 5 Stelle. Per questo che lo mantenete. Eh, no, no, sono uno dei nostri 20 punti, ovviamente non lo facciamo per Salvini, con tutto il rispetto, non lo facciamo perché è giusto e l'abbiamo sempre portato avanti. Volevamo anche fare quota 41, ma è molto più complicato. Quando c'è stata la conferenza stampa di presentazione dei provvedimenti, Salvini aveva quota 100 in mano e il reddito ce l'aveva invece in mano. Torniamo ad Axley, che se tu riesci in qualche modo a manipolare la realtà e far credere quota 100 è tua, anche se è una fake news, riesci in qualche modo a farlo credere a tutti. Sì, resta il fatto comunque che, per quanto riguarda l'età pensionabile, in Germania la stanno portando a 69 anni e passa, perché c'è recessione e perché la popolazione invecchia. Voi pensate che sarebbe possibile rivedere questo discorso di quota 100 oppure la mantenete nonostante tutto? Noi pensiamo che vada mantenuta, soprattutto perché chi oggi va in pensione con quota 100 lascia un posto vacante. Quel posto vacante va riempito. L'amministrazione ha necessità che quella manzone venga svolta da qualcun altro. Ci sarà qualche mio coetano che potrà finalmente avere un lavoro. Io di questo sono molto felice perché è la cosa più importante. Mi sembra assurdo costringere le persone a lavorare fino a 69 anni, 70 anni, eccetera, quando magari vorrebbero andarsi in pensione. Perché in Germania lo fanno, quindi magari potrebbero arrivare indicazioni anche dalla Commissione Europea. Se in Germania stanno scoprendo oggi una crisi che l'Italia ha subito qualche anno fa e quindi ha fatto delle scelte discutibili quando c'è stato il governo Monti, beh, questo è un altro discorso. Però in Italia noi ci siamo già passati, sappiamo che non funziona, sappiamo che non ha portato a nulla, bisogna cambiare passo, con delle manovre espansive come quelle che stiamo facendo. Prima di salutarla però gliela voglio far dire questa cosa perché ne abbiamo parlato un po' sentendoci al telefono messinese, giusto? Sì, esatto. Però c'è un'attività che, c'è una nomina che aspetta di essere, come direi, di diventare... È diventata... Per lei è una cosa importante questa. Sì, perché è diventata anche un po' una cosa nazionale. Ci spostiamo di nuovo in Sicilia. Ci spostiamo in Sicilia e in Calabria perché in realtà c'è stata l'autorità, è stato possibile lo scorso anno istituire la sedicesima autorità portuale, l'autorità portuale dello Stretto, che è una cosa fondamentale perché grazie a questa autorità ci sono le due sponde della Sicilia e della Calabria che sono realmente unite da un'autorità. Prima invece non era così, prima addirittura Messina stava con Gioia Tauro che non c'entra nulla perché Gioia Tauro si occupa di transhipment, quindi le navi arrivano, lasciano i container, ne prendono altri e invece Messina, Reggio Calabria, Villa San Giovanni, che è l'altra parte, si occupano di passeggeri. Noi abbiamo creato un'area dello Stretto unica e di questo siamo molto contenti. La nomina del Presidente di cui parlavamo prima è passata prima dal Senato, poi dalla Camera, quindi a questo punto manca soltanto la nomina del Ministro che arriverà a breve, quindi avremo il Presidente e quindi l'autorità portale finalmente sarà operativa. Attenzione, una provocazione, ma tanto poi si risolve tutto col ponte sullo Stretto. Ecco, per noi è l'unico posto. Gliel'ho messo lì. Mai, no, su quella proposita di infrastrutture siamo d'accordo con il Partito Democratico e con tutti che il ponte sullo Stretto non è assolutamente una priorità e che non ci serve assolutamente perché mancano strade, autostrade in Sicilia, in Calabria, sarebbe assurdo fare cattedrali al deserto come quella. Cerchiamo di creare queste, facciamo in modo che Calabria e Sicilia non sono più i deserti infrastrutturali che sono oggi. È stato un piacere averla con noi, buon lavoro a Francesco Duva, grazie. Buona serata, buon lavoro. Ah, poi una cosa, è arrivato in motorino, in scooter, giusto? Certo. Ah, no, è certo, no, mica è detto, insomma, no, tra l'altro mi sa che piove adesso fuori, non potrei che... che cavolo, questo è terribile, era meglio non saperlo, Allora, le provisioni, c'è l'allerta arancione, ma non so se si è già cominciata. Allora, scusate, io devo proprio scappare prima che inizi l'allerta. si bagna, si bagna, c'è il rischio che si bagni. Grazie, grazie, buona serata, buon lavoro.